Non passa il progetto di fusione al referendum, prevalgono i no in tutti e cinque i comuni, i primi commenti dei sindaci e dei rappresentanti del comitato del no. Cresce anche grazie alle persone dell'Alta Valle Seriana il numero di aderenti al comitato per il prolungamento della tramvia da Albino a Vertova. Casniga una mostra dedicata all'India con gli scatti di Giacomo Nuzzo, iniziativa con la quale sostenere un centro con bambini dei villaggi poveri del sud del paese. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Una ragazza di 16 anni oggi è stata investita a Lovere in via Giorgio Paglia. L'episodio si è verificato intorno alle 12.15. Per i soccorsi sono intervenuti due mezzi, un'ambulanza della Croce Blu di Lovere e l'elisoccorso di Brescia. Con l'elicottero la sedicenne è stata portata in ospedale a Brescia in codice giallo. Nessuna fusione tra Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovette e Songavazio. I comuni dell'Unione della Presolana restano divisi. L'esito del referendum sul progetto del comune unico è stato chiaro. Il no ha stravinto, affermandosi in tutti e cinque i comuni. In totale sono stati 2.896 cittadini che si sono espressi contro la fusione pari al 63,9%. Il SIA ha ottenuto 1.633 consensi pari al 36,1%. Ricordiamo che il referendum era consultivo e ora sul progetto di fusione dovrà esprimersi il Consiglio regionale, ma non ci sono dubbi su quale sarà la decisione. Sarebbe bastato che in un solo paese avesse vinto il no per mandare a Monte il comune unico. Rivediamo ora alcune grafiche che già abbiamo proposto ieri sera durante lo speciale sul referendum consultivo. A Rovetta i sì sono stati 713 pari al 34,4%. I no 1.359 pari al 65,6%. L'affluenza è stata del 56,5%. Vediamo a Songavazzo. 206 sì, ovvero il 48,2%. I no 221, il 51,8%. Affluenza del 64,2%. A onore i sì sono stati 202, il 41,7%. I no 282, il 58,3%. L'affluenza è stata del 57,2%. Ecco la grafica di Cerete. 243 sì, il 27,6%. I no 637, il 72,4%. Affluenza del 62,7%. Fino del Monte 269 i sì, il 40,4%. 397 i no, 59,6%. L'affluenza è stata del 59,2%. E ora sentiamo alcuni commenti partendo da alcuni primi cittadini del territorio. Covelli, come ci commenta questo risultato? Poche parole, ma la più importante è che è un dato inequivocabile. Essendo inequivocabile, è democratico, è assolutamente imprescindibile commentare che il dato, la popolazione ha fatto questa scelta e appunto per essere ripetitivo in democrazia vige la legge del più forte, di conseguenza prendiamo atto di questo risponso serenamente e senza troppi patemi, continueremo ad amministrare e a collaborare come abbiamo fatto finora, con molta più fatica di prima, che si tradurrà inevitabilmente in qualche piccolo problema nel futuro, ma che cercheremo di coprire come abbiamo sempre fatto. Locatelli, come ci commenta questo risultato? Non c'è molto da commentare, direi che la gente si è espressa in modo assolutamente democratico e si è espressa molto chiaramente. A noi che abbiamo il compito di amministrare i nostri comuni non resta che portare avanti la decisione presa dai nostri cittadini, quindi nel caso specifico continueremo come abbiamo fatto negli ultimi anni a portare avanti il lavoro a livello di unione dei comuni e a collaborare con i nostri vicini di casa, con i quali già abbiamo tantissime cose in comune. Bene, siamo arrivati alla fine di questa avventura, il voto è sovrano, i cittadini hanno scelto, terremo fede a quello che è il nostro lavoro, a quelli che sono i nostri propositi, continueremo quindi a fare il nostro dovere di amministratori e speriamo di riuscire a farlo al meglio come abbiamo sempre tentato di fare. La scelta è stata assolutamente schiacciante da quel punto di vista, per cui non dovremmo fare altro che prenderne atto. È una cosa che era triste un po', visto che è considerato quanto ci credevamo e quanto per noi era importante per il territorio, come abbiamo sempre detto, ma questo è. Ecco, l'attaccamento ai comuni che è stato dimostrato potrebbe diventare anche un valore aggiunto. Senza ombra di dubbio, assolutamente. È evidente che i nostri cittadini, e questo è positivo, sono molto attaccati al loro territorio, inteso come territorio comunale e credo anche alla comunità e quindi all'identità della loro comunità. Questo sicuramente è un aspetto positivo di quello che è il risultato. La difficoltà nel gestire il tutto c'è, come abbiamo sempre sostenuto, ma nulla vieta che continueremo a fare il nostro lavoro con quelli che sono gli strumenti che abbiamo. Insomma, questo è evidente. Continuiamo con Mauro Bertocchi del Comitato del No. Mauro Bertocchi, non vi aspettavate un risultato come questo? Sì, direi che è stato sorprendente, oltre ogni aspettativa, perché pensavamo sì che con una fusione a 5, un comune magari poteva anche saltare e quindi votare per il no. Però francamente un risultato così a 5, completamente per il no e anche con una certa percentuale di vantaggio, direi che è sorprendente. Credo che questa sia la vittoria soprattutto della gente che, nonostante i problemi economici tanto sventolati, le difficoltà economiche dei nostri comuni, crede ancora tantissimo nell'identità e nella rappresentanza. Questi sembrano due elementi da snobbare e da considerare retrogradi chi ancora resta così attaccato. Evidentemente i cittadini sono fieri e contenti di vivere ognuno nel proprio comune e secondo me questo è un elemento su cui fare assolutamente affidamento. Io l'ho sempre detto, l'identità è quel senso di rispetto verso il luogo in cui uno cresce e soprattutto va detto una cosa, i nostri cittadini dei 5 comuni hanno dato un chiaro segnale di come si trovano bene nei loro territori, indipendentemente da quello che possono immaginare e credere gli attuali amministratori che ovviamente loro hanno probabilmente dato un'opportunità, però credo che questa opportunità sia stata profondamente smentita. Domani non si sa che cosa si farà, io credo che siccome noi in campagna elettorale abbiamo rimarcato molto la presenza delle unioni dei comuni, io credo che se questi sindaci e queste amministrazioni continueranno ad amministrare i comuni debbano fare assolutamente una profonda riflessione su questa struttura che è l'Unione dei Comuni della Presolana, che è un equivalente funzionale della fusione, che garantisce economia di spesa attraverso la gestione associata dei servizi. Che si dimentichino completamente l'idea che questi 5 territori vogliono accorparsi. La fusione, l'abbiamo detto, non è la soluzione dei mali, delle nostre realtà e ci sono mille altri modi per poter andare avanti e credo che questi siano momenti di ristrettezza economica, ma sono contento e ringrazio veramente tutti i cittadini che si sono recati anche qui con un'affluenza elevata, molto elevata, segno di grande partecipazione, segno di grande affetto per i propri comuni. Oggi i comuni sono una forza vitale che tutta la gente deve mettersi in campo per poterli rivalutare ancora. La rappresentanza è fondamentale. Quando io dicevo che lasciare il mano e il potere a pochi è molto pericoloso e la gente anche questo messaggio lo ha recepito, l'amministratore oggi dei nostri comuni è una presenza assolutamente importante, non è un costo, perché qua non si deve continuare a parlare di costi, l'economia, i costi e tutto quello che gli ruota intorno. Un matrimonio basato sui soldi è un matrimonio che non può durare e questo se lo devono ficcare bene in testa un po' tutti. Voltiamo pagina. Continua a crescere il Comitato per il prolungamento di Teb da Albino a Vertova anche grazie alle adesioni raccolte in Alta Valle Seriana. Sabato fuori dal supermercato Cona da Clusone sono state 630 le persone che hanno sottoscritto il modulo di adesione, un dato importante tenendo conto che lo scorso fine settimana oltre 700 persone avevano fatto lo stesso anche all'esterno dell'Iperal. Tra i firmatari anche alcuni amministratori, la prima cittadina di Cerete Cinzia Locatelli, l'ex primo cittadino di Rovetta Mauro Marinoni, l'ex sindaco di Viladogna ed ex consigliere provinciale del Carroccio Angelo Bosatelli, il sindaco di Son Gavazzo Giuliano Covelli e l'ex primo cittadino Baradello Carlo Caffi. Tra gli amministratori dell'Alta Valle aderenti anche il primo cittadino di Rovetta Stefano Savoldelli. Il mese scorso c'era stata anche l'adesione del capogruppo di minoranza Baradello della lista Clusone, viva Massimo Morstabilini. 7.300 le adesioni totali al Comitato per il prolungamento della Teb da Albino a Vertova. Cambiamo argomento, continua a prendere forma il nuovo CDA di Promosterio. Oggi la provincia ha nominato come suo consigliere Omar Rodigari di Parre, definito anche probabilmente in queste ore il rappresentante della comunità montana della Valle Seriana. Il 15 novembre è stato eletto il consigliere rappresentante dei comuni ed enti dell'Alta Valle Seriana Guido Fratta. Il giorno successivo sono stati eletti due consiglieri rappresentanti degli operatori Gianni Balduzzi e Cristian Messa. Giovedì 17 novembre è stato indicato il consigliere aggiunto in qualità di rappresentante delle proloque, incarico per il quale è stato confermato Lorenzo Aresi di Gandino. Questa sera sarà deciso il consigliere aggiunto degli associati della Valle di Scalve. Il 23 sarà individuato il rappresentante delle imprese, ovvero il comparto industrie. Il 24 il rappresentante dei comuni ed enti, avente sede legale nel territorio dell'ex comunità montana della Valle Seriana, da definire anche il consigliere dei comuni altamente turistici. Il conferimento ufficiale delle deleghe e la nomina del Presidente è prevista per sabato 26 novembre. Siamo a telefono con il Presidente della provincia di Bergamo, Matteo Rossi. Avete nominato un candidato consigliere all'interno di Promoserio? Sì, ho firmato il decreto questa mattina. Si tratta di Omar Rodigari, che fa parte dell'amministrazione di Parre. Abbiamo ritenuto come provincia di non seguire logiche di partito, ma di promuovere innanzitutto le nuove generazioni che si stanno impegnando per la promozione del territorio della Valle Seriana. Omar, in questi anni e anche recentemente in collaborazione con la provincia, ha dimostrato di essere capace e di avere anche in mente dei progetti molto interessanti, a partire da quello sugli alpeggi su cui abbiamo collaborato insieme, ma non solo. Quindi bravo, giovane e poi fa parte di un comune come quello di Parre, che ad oggi rappresenta anche, esprimendo il Presidente della comunità montana, un po' l'unitarietà della Valle. Lì c'è stato un esperimento, una scelta di unità che io ho apprezzato perché ritalca un po' lo spirito della provincia e dei comuni e questi elementi ci hanno fatto propendere per la candidatura di Omar. Anche a tutti gli altri faccio i miei auguri, Promoserio è una realtà importante e le cose che funzionano bene vanno preservate dai litigi, dalla politica e vanno sempre più radicate nei comuni, sul territorio, va allargato il rapporto con le imprese. Quindi buon lavoro a tutti e in bocca al lupo. Ora andiamo a Casnigo per parlarvi di una mostra sull'India e per l'India. Perché questa mostra è dedicata all'India e a Casnigo? Allora noi abbiamo preso l'occasione di un incontro con il Giacomo Nuzzo che ha già un progetto fotografico per l'India, lui è un artista che si è dedicato negli ultimi anni alla fotografia e questo progetto viene da un viaggio che lui ha fatto nel sud dell'India. Ha già portato avanti alcune mostre su questo tema, su questo viaggio, chiamandolo passaggio in India un po' parafrasando il famoso film. Noi abbiamo preso questo progetto di Giacomo e abbiamo voluto tessere una relazione con altri due progetti, uno qui in Valle Seriana che magari brevemente poi le racconteranno le sorelle Mignani e un altro per la Valle Camonica che si svolgerà all'inizio di dicembre, in particolare avrà inizio il 2 di dicembre e questo progetto a Valle Camonica è portato avanti dall'organizzazione Casa Barbusè insieme con Vital Italy che è un'altra organizzazione che lavora in India, in particolare nella città di Calcutta con un progetto di casa di accoglienza per bambini e bambine vittime di violenze. Le fotografie esposte in questa mostra sono di Giacomo Nuzzo che noi abbiamo già incontrato qualche mese fa ad Albino per una iniziativa analoga. Vogliamo parlare di queste fotografie che ha deciso di esporre a Casnego? Le fotografie sono più o meno, ripetono, quelle di Albino ne ho cambiate alcune ovviamente e in questa occasione presentiamo un nuovo libretto fotografico dedicato ai bambini perché abbiamo deciso per un'altra manifestazione che farò a Vimercati prossimamente di fare un successivo libro dedicato alle donne dell'India. Perciò di questa mostra indiana che sto portando in giro per scopo benefico diciamo verranno poi allestiti addirittura quattro libricini, uno sulle religioni, uno sull'India in generale che abbiamo già pubblicato, questo presente alla mostra sui bambini e quello sulle donne. Lo scopo è sempre quello ovviamente di aiutare delle associazioni che lavorano per l'India, soprattutto per i bambini e per le donne che sono messe al margine per motivi banali diciamo e questo è il mio intento e vorrei proseguire eventualmente ci fossero associazioni che vengono a conoscenza, sappino che io partecipo volentieri a queste iniziative. Quale progetto verrà finanziato con i fondi che verranno raccolti grazie a questa mostra? Allora il centro che andremo a finanziare si chiama Seva Sharam, è situato nella cittadina di Cavital a nord del Karnataka, uno stato situato a sud dell'India. Questa collaborazione nasce grazie all'amicizia con Sister Divya che è una sora che ho conosciuto durante il servizio civile nel 2012 e che da allora ho continuato a mantenere i rapporti. Il centro ospita 145 bambine da 6 ai 16-18 anni sono tutte bambine che provengono da villaggi poveri, limitrofi e questo centro dà la possibilità a queste bambine di avere il vitto e l'alloggio e la possibilità di avere un'educazione sicura che parte appunto dalla prima elementare fino agli anni prima dell'università e chi vuole ha la possibilità di continuare gli studi oppure c'è comunque la possibilità di entrare nel mondo del lavoro grazie comunque all'educazione. Ci fermiamo per una breve interruzione tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2, serata ricca di emozioni sabato a Parre con il Galà dello Sport, manifestazione con la quale sono stati premiati diversi atleti del paese. Vediamo il servizio di Elisa Cucchi. Terza edizione del Galà dello Sport a Parre, un successo annunciato, tantissimi ospiti, tanti premiati. A Parre la realtà dello sport vola e non solo. Sì, è diventato ormai un appuntamento fisso per noi, un appuntamento anche molto atteso e l'amministrazione comunale è felice di riproporla ogni anno. Abbiamo la fortuna e la bravura dei nostri atleti che ogni anno sono sempre numerosi per cui siamo orgogliosi di poterli premiare, di poter riconoscere loro i risultati che ottengono. Un grosso grazie anche alle società che fanno crescere questi ragazzi e questi atleti per dargli modo di ottenere tutto quello che per tutti i sacrifici che loro fanno durante l'anno. Lo avete lasciato per ultimi alle premiazioni, ma non per demerito, ma bensì per i successi che hanno ottenuto in questo ultimo anno trascorso della loro attività. Sto parlando di Leonardo Capelli e Pier Andrea Titta. Due risultati su tutti da celebrare. Sì, loro sono quelli che proprio anche a livello nazionale e internazionale hanno ottenuto i risultati più eclatanti. Devo dire che oltre al talento c'è proprio anche la costanza e l'appoggio sia delle società che anche delle famiglie che supportano proprio tutti i loro sforzi e questo talento effettivamente esce proprio grazie non solo a loro stessi, ma anche a chi sta dietro. Devo dire che anche gli ospiti che sono intervenuti sono rimasti meravigliati proprio dalla quantità di atleti che in un paese di 2.800 abitanti riusciamo a portare a questi livelli. Beh, una realtà molto vivace, tantissimi campioni, soprattutto giovani e soprattutto un ambiente ideale per coltivare il talento che qui vedo che è molto presente. Mi sembrava di essere un po' a casa qui a Pare perché tante discipline sportive, dal moto al mountain bike ai classici sport tradizionali come il calcio, il basket, la pallavolo e quant'altro. E quindi un'esperienza molto bella, molto piacevole, una piccola comunità ma con tantissimi campioni. Ho il compito del CONI di promuovere tutte le discipline sportive, anche quelle magari meno conosciute, che magari non hanno gli ingaggi favolosi che hanno altri sport molto più conosciuti, ma che permettono il calcio balilla, che ha una parte, una componente del calcio, ma comunque è una disciplina sportiva, tra l'altro il CSI la sta portando avanti da parecchi anni con grandi risultati e grandi appassionati. Mi ha fatto molto piacere essere qua a Pare, anche perché ovviamente il mountain bike Pare da 25 anni lavora tantissimo e è una delle squadre di riferimento dell'Alta Valle. Sta facendo un gran lavoro, ho organizzato anche delle gare quest'anno molto belle che ho visto proprio sui nostri territori, sta crescendo tanti ragazzi, è bello ritornare comunque in un ambiente che ho vissuto anch'io da giovane e che mi ha portato poi ad ottenere tanti risultati da professionista. Mi è stato un piacere, un onore venire a questa serata qui, organizzata veramente molto, molto bene e mi ha dato modo di conoscere anche degli ospiti veramente importanti e dare un contributo al basket rosa, qui a Pare che è molto, molto conosciuto e molto rinomato. spero di rivederli più avanti nelle loro ambizioni anche in Serie A se possibile. In Serie B sicuramente perché hanno giocato a suo tempo anche con la mia figlia Roberta e conosco veramente la validità di questo gruppo, di questa terra e di questa città. È stata una serata molto molto piacevole, è sempre bello partecipare a serate, a manifestazioni di questo genere perché si parla di sport innanzitutto, perché si vede tanto entusiasmo, perché si vede tanta voglia di divertirsi, di fare bene, di primeggiare e questo non deve mai mancare. Si vedono tanti giovani e questo è sicuramente molto positivo. Lo sport è fondamentale nella crescita di ogni persona perché aiuta a crescere, aiuta a vincere ma aiuta anche a perdere. Quindi si provano esperienze che poi sono fondamentali anche nella vita di tutti i giorni. L'Atalanta continua a incassare vittorie splendida sul campo di casa e vince anche contro un osso duro come la Roma. Sentiamo. Dea, magica Dea, dice l'inno di Robi Facchinetti e mai come in questo periodo può essere attuale. Ad essere magica non è la Roma, bensì quest'Atalanta che nelle ultime otto partite ha ottenuto un pareggio e sette vittorie. L'ultima, quella di ieri, sulla Roma. Una vittoria del gruppo, dei giovani e dei tifosi. Ma oggi abbiamo fatto un'ottima partita, siamo andati sotto, siamo stati bravi a reagire, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo. Adesso siamo in un'ottima posizione in classifica, abbiamo tanti punti però dobbiamo lavorare dur e tenere il piede di partita. Nel primo tempo abbiamo provato a fare uscite diverse rispetto al solito e a pressarli di meno. Nel secondo tempo abbiamo fatto come sempre, siamo andati uomo con uomo e i risultati si sono visti. Ci divertiamo perché comunque il pubblico ci trascina molto ogni volta che gioco, almeno personalmente mi vengono i brividi perché comunque c'è un pubblico pazzesco. Infatti in campo non sentiamo la nostra voce perché il pubblico canta tantissimo e dobbiamo continuare così per far felici anche i tifosi e anche noi stessi. La Roma è la squadra più forte che hai visto a Bergamo in questo campionato? Secondo me sì, è una squadra veramente forte, hanno delle grosse individualità, sono forti davanti, sono molto veloci però siamo stati tutti bravi a contenerli oggi. Sicuramente è andata bene, sono veramente contento perché abbiamo dato un cambio di marcia nel secondo tempo, non era facile perché stare sotto con la Roma, una squadra veramente forte, ribartarla dice molto sotto il punto di vista caratteriale della squadra. Sono contento di aver dato un contributo per questa vittoria e godiamoci questo momento. meno 15, meno 15 però lasciatemi dire che siamo veramente un'emozione, siamo una squadra che dà un'emozione unica, credo che oggi dai messaggi che ho ricevuto c'era l'Italia che ci spingeva, siamo belli, siamo belli, siamo freschi, siamo giovani, abbiamo carattere, siamo un'emozione per rubare le parole che ho letto su un giornalino bergamasco. è un'emozione veramente grande, mi piacerebbe vedere la San Luca piena in trasferta col Bologna, questo sì. Vedere tutto il popolo nero-blu allo stadio, era un muro, c'erano 18.000 persone contro la Roma oggi, è stata veramente una grande emozione, per esempio il record stagionale di presenza. Adesso bisogna gestire questa emozione, rimanere umilmente con i piedi per terra, però sulle ali dell'entusiasmo continuare su questa strada. La squadra sta facendo cose meravigliose, però non dimentichiamoci i nostri valori, il nostro orizzonte tecnico, i nostri obiettivi, quali sono, per cui bisogna mantenerci umili e concentrati, poi quello che verrà, verrà. Domani sera alle ore 20.30 circa, torna in onda la rubrica di pareri d'opinioni locali, il sasso nello stagno, cura del nostro Tony Tranquillo. Domani sera alle 20.40 tornerà l'appuntamento classico del martedì sera con il sasso nello stagno, questa settimana al centro commerciale Adamello, qui per parlare di sonno. Sembra ribaltata la teoria che è obbligatorio dormire 8 ore a notte per stare bene, sembra che la cosa sia molto soggettiva e allora abbiamo voluto aprire un capitolo proprio sul sonno, dormite 8 ore, ve ne bastano 6, come dormite, come vi alzate, siete di quelli che rimandano sempre il momento in cui bisogna abbandonare il letto oppure appena svegli saltate fuori dal materasso al volo e poi durante il sonno, il sonno è uno di quelli tranquilli, di quelli che vi fanno riposare come si deve oppure dormite sonni agitati. Questo è d'altro ovviamente nel sasso nello stagno, domani sera su Interno 2 TV e adesso un'intervista estratta dalla trasmissione. Io mi sdraierei lì e dormirei. Davvero? C'è qualcuno che invece non riesce a dormire, fa fatica di prendere le pillole? Io dormo anche troppo, però ho sempre sonno. La mattina a che ora? Suona, sveglia? Eh beh, siccome dormo presto la sera, poi mi sveglio presto al mattino. Cosa vuol dire? 4 e mezza. 4 e mezza? Come le 4? Io non ho mai visto in vita mia le 4 e mezza sulla sveglia. Ah io sì, anche un quarto alle 4. Ma si sveglia quindi da sé, non punta ovviamente? Sveglia. E cos'è che fa? Cosa fa le 4 e mezza? Iiii, ce ne sono tante di cose che si fanno. Ma si mette a passare l'aspirapolvere? Noi, leggo, fumo la mia sigarettina. Dà le botte a lui, lo fa svegliare? No, 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 no. Siete opposti come abitudini nel sonno? No. Anche lei presto? No, cioè presto, cosa intende lei? Io mi sveglio alle 5 e rotti. Ah, tardissimo rispetto alle 4 e alle 5, non dormiglione. Mi alzo le 6 e mezzo dai. Quindi le piace stare nel letto a crociolarsi? No, il compenso la sera vado poi a letto alle 11. È già tardino. Eh beh. Lei diceva che la sera a letto? 9 e mezza. E qua dei bei sogni? Sogni no, ecco, strano, o perlomeno non me li ricordo. Dicono che i sogni aiutino a vivere meglio. Non fa sogno. Non lo so. Io non mi ricordo. Una pausa tra poco. Torniamo in onda e continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20.10 trasmetteremo tempi supplementari alle 22.30, la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 23.45 uno speciale sportivo dedicato al campionato di bocce della Serie A. Alla mezzanotte e mezza tornerà in onda il nostro notiziario. In onda anche alle ore 21.30 sul canale al numero 218. Sul canale sportivo sul numero 628 alle 20.10 trasmetteremo tempi supplementari. Eccola al Manacco. Più deboli all'est, moderate e localmente forti sui settori più occidentali. Le temperature saranno in lieve aumento. E siamo giunti al termine di questa edizione. Grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti. Grazie. Grazie.